marie eccoci qui cari amici ma soprattutto cari amiche di total photoshop e quest'oggi al microfono il buon max e alle foto anzi al catalogo delle foto come al solito il nostro buon lightroom 4 chi mi segue su twitter sa che c'è un po di vociferio ci sono un po di rumors riguardo a lightroom 5 tra l'altro rumors che arrivano direttamente dei forum di adobe ma cosa sarà cosa succederà staremo a vedere capiremo insomma le distanze credo che incominciano ad accorciarsi rispetto alla nuova release ma non diciamo niente finché non abbiamo qualcosa di più certo in mano intanto continuiamo a seguire la situazione a distanza quest'oggi ci occupiamo come promesso dal titolo del tutorial noi manteniamo sempre le promesse ci occupiamo di ricerca rapida delle immagini nel catalogo questo perché perché in questo catalogo come potete vedere sono nel modulo libreria ho un numero veramente modesto di foto 154 che fa veramente ridere non li fanno le fai neanche in in due ore di scatti quando sei in giro ovviamente questa è la macchina che utilizzo per fare i tutorial sulla mia ci sono qualcosa come dieci dodicimila foto nel nel catalogo foto che vengono continuamente aggiornate e quant'altro quindi poi delle volte si sale anche a numeri ben più impervi e quindi il problema come al solito è nella pratica quotidiana quella del mondo reale come accidenti vado a rintracciare la foto di quella modella che non mi ricordo come si chiama che però era tanto carina aveva gli occhi azzurri è bella domanda allora la risposta è molto molto semplice abbiamo un simpatico tasto sulla tastiera che si chiama virgola e guardate cosa succede se lo premiamo compare la barra dei filtri se lo ripremiamo un'altra volta la barra dei filtri scompare ma nel caso voi siate su pc o siate su mac o non vogliate porvi il problema della virgola perché la virgola non vi piace allora utilizzate la combinazione di tasti ctrl f come fai un po quello che vuoi oppure command f se lavorate su mac e la f ricordo sempre che sta per fai un po quello che vuoi e cosa succede a ricompare magicamente la barra dei filtri questa volta però utilizzo il control f o command f secondo della piattaforma semplicemente per il fatto che universalmente su praticamente tutti i software questa scorciatore la tastiera implica una ricerca ebbene è una ricerca che se ho fatto i miei bei compiti quando ho importato le immagini quando me le sono inserite nel catalogo quando le ho organizzate quando le ho selezionate eccetera eccetera avrò o rinominato il file all'importazione oppure gli avrò in cosa ancora più sensata gli avrò inserito delle parole chiave e in modo tale da potermi avvantaggiare di questa fantastica funzionalità per esempio abbiamo detto che cerco una modella che non mi ricordo più come si chiama e mara tanto carina aveva uno sguardo tanto simpatico e aveva soprattutto gli occhi azzurri eccola qua quindi io non ho fatto manco in tempo a finire di scrivere tutte le parole chiave vedete sono stato parecchio di lì è poco diligente per cui questo file quando l'ho importato in questo catalogo non gli ho cambiato il nome per cui mi ritrovo questa assurdissima sigla dsc e underscore dsc 2756 punto nef come dico sempre una foto degna di questo nome non dovrebbe mai chiamarsi in questa maniera poverina ma come ha fatto lightroom a ritrovarmi la simpatica foto che vi svelerò sapevo già che era questa è sì non ci crederete mai mai così perché nel modulo libreria vi ricordo che abbiamo una simpatica scheda che si chiama creazione parole chiave nelle parole chiave se andate a guardarvi qualche tutorial indietro che abbiamo fatto nelle prime operazioni di scoperta di lightroom non solo quattro anche tre ma anche cinque quando ci sarà le parole chiave ci servono per descrivere il contenuto dell'immagine quindi per poterla ritrovare questa è una delle funzionalità delle parole chiave ce ne sono sicuramente di più per cui io oltretutto facendo questa ricerca vedo che posso anche aggiungere delle parole chiave perché ho degli altri suggerimenti evidentemente per che derivano scusate da keywords o parole chiave che ho già utilizzato quindi questa soluzione molto molto comoda ma diciamo che voglio fare una selezione ancora più particolare perché dico sì mi ricordo che sono stato a firenze ho scattato delle foto ma vai a capire in queste miliardi di foto che ho qua dentro ovviamente ripeto qua sono solo 154 ma in un catalogo normale sono molte molte di più e voi lo insegnate a me in questo senso quindi digito firenze e ora mi saltano fuori le simpatiche e terrificanti fotine che ho fatto proprio in terra fiorentina tanto contesa da guelfi e ghibellini come ci insegnava il sommo poeta ebbene questa funzionalità della ricerca del basata sul testo che caratteristiche ha innanzitutto va a cercare di default in qualsiasi campo vedete testo e va a cercare in qualsiasi campo ricercabile che vuol dire che va a cercare nel nome del file se trova qualcosa nei nel titolo nel nome della copia nei metadati nella didascalia nelle parole chiave e in tutto quello che sono dati extra immagine che abbiamo a disposizione ma possiamo fare come vedete una ricerca molto più raffinata quindi cercare solo nelle parole chiave solo nel titolo solo nel nome file e via dicendo questo è particolarmente interessante perché possiamo raffinare la nostra ricerca una volta che abbiamo capito soprattutto se di professione magari facciamo sì fotografi ma ancora di più se abbiamo un collega un assistente ok che deve andarci a cercare al volo l'immagine che conteneva che parlava di che faceva riferimento a questa cosa molti di voi sanno che cosa significa perché magari siete fuori dallo studio 7 da un cliente 7 da un amico da un parento che vi arriva la telefonata che vi dice ma senti quella foto che mi avevi fatto quando eravamo a firenze non è che me la mandi e tu dice modo la vado a beccare in tutte se magari non mi sono fatto delle raccolte non mi sono fatto un ordinamento di un certo tipo non ho diviso le foto in cartelli insomma non ho fatto tutto quello che devo fare ma almeno ho inserito le parole chiave ecco che trovo o addirittura faccio trovare al volo tutte le foto che mi servono raffinamento ulteriore per quanto riguarda la ricerca possiamo fare filtrando il fatto che vedete di default cioè in automatico lightroom cerca qualsiasi cosa che contiene tutto quello che sto scrivendo oppure che contiene le parole esatte oppure che non le contiene o addirittura inizia con o termina con quante volte vi siete incartati sul fatto che vi ricordate che la tal cosa la tal persona si chiamava in un modo particolare iniziava con e o finiva con ma non vi ricordate il resto ecco questa funzionalità vi aiuta a ritrovare ciò che avevate dimenticato sotto il tappeto in qualche hard disk remoto piuttosto che in chissà quale cassettino del vostro studio della vostra scrivania detto questo questa funzionalità non sottovalutate la perché lightroom è un ottimo strumento per organizzare il nostro archivio archivio che si chiama catalogo in lightroom e può essere veramente l'arma vincente per quanto riguarda il recuperare le nostre immagini soprattutto tutte quelle volte che accumuliamo 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 e diciamo si poi le metto a posto poi le catalogo poi le metto in ordine via dicendo attenzione perché con il digitale queste sono armi a doppio taglio ultima cosa che voglio farvi notare le foto che troviamo in in questa ricerca come vedete dato il punto interrogativo sono offline ossia sono mancanti nel senso che sono state registrate nel catalogo o la mia bella anteprima ma lightroom non trova il file originale fisicamente quindi la cosa interessante ancora di più perché anche se le ho rimosse dalla loro posizione originale magari ce l'avevo su un harddisk esterno l'ho scollegato ne ho collegato un altro eccetera eccetera lightroom si ricorda comunque della presenza delle foto nel catalogo questo ci avvantaggia ulteriormente per non perdere mai il filo del lavoro che abbiamo fatto detto questo dicevo il max passa tutte le parole chiave a voi il modulo libreria è tutto vostro e l'augurio come al solito di tanti bei pensieri positivi ci vediamo su twitter ci vediamo su facebook ma soprattutto ci vediamo al prossimo tutorial